Signori, rieccoci tornati di nuovo più forti di prima con le guida e team building di One Piece Treasure Cruise dedicata alla Treasure Map. La Treasure Map sulla quale voglio fare un piccolissimo discorso e dire un po' la mia opinione a riguardo. Ma per questa cosa vi rimando a fine video. Prima facciamo la parte più classica, quella appunto del team building e di bene o male una sorta di analisi dei vari stage e dei vari boss. Che sicuramente è la parte che vi interessa di più. Poi per le varie farneticazioni e follie del sottoscritto ovviamente vi rimando a fine video. E peraltro questa non è una Treasure Map qualunque perché questa era la Treasure Map dell'anniversario della versione giapponese. Quindi come vedremo alla fine non è molto difficile da affrontare. Come al solito ci sono quelle due o tre piccole cose da tenere conto ma veramente proprio inezzie, facezzie, roba da poco. E per appunto una Treasure Map estremamente abbordabile rispetto magari ad alcune che abbiamo avuto in passato. E direi di iniziare come al solito dall'Invasion. Un'Invasion che sarà Akainu. Akainu innanzitutto allo stage 2 avrà Fugitora che sarà verde. Fugitora farà un nuovo Bomb Orb, una nuova tipologia di Bomb Orb alla middle row, quindi ai personaggi della linea centrale. Farà 5 turni di paralisi alla colonna sinistra e 5 turni di Despair. Nello stage 3 troveremo Akainu, anche lui sarà Dex ovviamente dato che le nuove Legend sono rosse e viola. Strano caso, tutti i boss saranno o verdi o gialli. Quindi Akainu sarà verde, farà 5 turni di silence delle special, 5 turni di attack down e 5 turni di damage threshold. Al turno 2 vi darà un increase damage, sotto il 50% rewind delle special di 3 turni più Block Orb e sotto il 20%. Anche qui, inutile da dire, come sempre, vi one-shotterà. Il primo che utilizzo io è un team doppio Snakeman V2, però potete portarvi qualsiasi personaggio che ovviamente si va a concentrare nel boostare i personaggi rossi. Sabo V3, lo stesso Akainu V3. Qui l'unico personaggio estremamente, estremamente importante è Rerequit Hancock. Perché questa Hancock, infatti, in una sola special, si andrà a occupare sia del silence, sia dell'attack down all'ultimo stage. Non c'è un Despair Remover, questo perché vado ad utilizzare come support di Rufy il 6R Plus Rayleigh V1. Potete anche utilizzare, se non lo avete, Halloween Ace. Anche lui va più che bene. E un altro personaggio abbastanza importante sarà Chopper. Questo perché va a rimuovere il threshold, damage threshold. Akainu, totalmente rimpiazzabile lì per il suo punteggio e per l'attack boosting. Ma se avete Snakeman V2, vi ricordo che con il suo supertype avrete un attack boosting. Basta portare uno dei Mugiwara e in questo caso ne abbiamo due. Quindi l'unica veramente fondamentale che vi consiglio di assolutamente di portare se non lo avete e che purtroppo è difficilmente rimpiazzabile è appunto Re-Requit Hancock. Passiamo a Blackbeard. Blackbeard sarà verde ma da quello che ho capito può essere anche giallo, quindi non so se varia in base al capitano che avete. Io l'ho sempre visto verde, quindi lo segniamo come verde. E vi darà semplicemente Bad Orb. Fine. Sotto il 50% vabbè vi rimuoverà per tre turni i personaggi della linea centrale della vostra squadra e farà un clear dei buff. Ma oltre a questo non fa letteralmente nient'altro. Quindi semplicemente portatevi qualcuno che vi manipoli gli orb o che renda gli orb colorati come matching orb e siete a cavallo. Il team che utilizzo io anche in questo caso è un team doppio Snakeman V2. Qui Snakeman V2 è super consigliato, almeno a velo come Friend Capitaine perché appunto con la sua special vi darà full matching orb più l'orb boosting più se avete uno Mugiwara come sub il suo super type vi darà anche l'attack boosting e quindi alla fine costruite il team attorno a Snakeman V2. I sub che vedete sono semplicemente delle waifu ovviamente Big Mom regna su tutte perché se si parla di waifu ovviamente non si può non mettere Big Mom. Poi abbiamo Big Mom. Big Mom sarà verde, vi darà tutti i bomb orb vi darà tre turni di burn pari a 3000 di damage avrà un percent damage reduction di tre turni pari all'80% al turno 2 farà 5 turni di bind random e sotto il 50% farà clear dei buff vi darà di nuovo bomb orb e vi loccherà gli orb. Il team che utilizzo io è un team doppio a Kainu V3 ma anche qui potete utilizzare qualsiasi personaggio basta che il vostro team ruoti attorno a questo Cavendish e questo perché Cavendish si occuperà del percent damage reduction. Abbiamo Kaido. Kaido sarà giallo, vi darà bad orb e farà due turni di special bind 20% di health cut, due turni di damage threshold e di buff contro il defense down. Sotto il 20% è abbastanza pericoloso quindi magari non portatecelo vi farà un health cut del 99% più un clear dei buff. Anche in questo caso c'è ben poco da fare e c'è un personaggio che vi darà una mano ovvero Hancock, la Hancock che abbiamo usato nell'invasion perché ovviamente si occuperà dello special bind. Poi abbiamo ovviamente Fugitora che vi darà full matching orb e per il damage threshold abbiamo Jesus Burgers quindi l'unica che stona un po' appunto è Hancock perché non è boostata da Fugitora però appunto è lì semplicemente per la sua special e poi vi portate dei driven randomici quindi mi raccomando i più importanti qui sono Burgers e Hancock. Poi abbiamo Shanks Shanks probabilmente è il più pericoloso di questa treasure map più forse dell'invasion e anche del boss finale perché infatti Shanks sarà giallo ma avrà dietro di sé Ben Backman, Lucky Roo e Yasopp che saranno verdi. Anche in questo caso vi darà tutti Bad Orb farà 5 turni di bind dai vostri capitani 5 turni di defense up al turno 2 lui farà un clear dei buff aumenterà l'attacco e vi darà empty orb e al turno 2 se sopravvive Ben Backman vi darà 5 turni di bind nella linea di mezzo della vostra squadra se Lucky Roo sopravvive vi darà 5 turni di bind invece alla parte bassa nei personaggi della parte bassa e se Yasopp sopravvive vi darà 5 turni di attack down quindi vanno eliminati tutti insieme abbastanza velocemente sotto il 20% invece vi one-shotterà. Qui il mio consiglio principale è quello di affrontarlo durante il vostro viaggio della treasure map come encounter piuttosto che tenerlo nella parte finale questo perché ovviamente sarà molto molto più facile e il team che utilizzo io un po' si basa su questo perché infatti è un team doppio Akainu questo Akainu è quello dato nell'evento che è attualmente in corso Akainu si occuperà del defense up altro personaggio molto utile sarà Law per rimuovere il bind e poi portatevi a attack, orb, boosting affinity boosting insomma quello che volete e ultimo ma non meno importante abbiamo il boss finale ovvero Rufy Rufy allo stage 4 avrà Nami che sarà gialla che vi darà un half cut del 20% e un rewind delle special solo dei vostri sub di due turni allo stage 5 ovviamente ci sarà Rufy che anche lui peraltro sarà giallo vi darà anche questa volta Bad Orb 5 turni di chain down un 30% di half cut e sarà immune al defense down al turno 2 si aumenterà l'attacco e vi farà un clear day buff sotto il 50% clear day buff e vi rimuoverà 2 unità random per 99 turni e sotto il 20% sarà una morte lenta e dolorosa perché vi darà 30 turni di bind il trucco è one shotarlo perché se lo portate sotto il 50% le cose saranno estremamente difficili qui c'è solo un personaggio che vi darà una mano non giriamoci attorno ed è Blackbeard V2 se lo avete come vostro capitano o friend captain siete a cavallo proprio perché lui si occuperà di qualsiasi cosa si parerà davanti ci sono video della treasure map della versione giapponese dove faceva bilioni di damage il gioco non riusciva nemmeno a calcolarli quindi capite che lui è il personaggio chiave per i poveri stronzi come me che nonostante tutto non sono riusciti a trovarlo consiglio questo team e utilizzerò questo team ovvero un Re Requitenel più Anniversary Nami questo ovviamente è un team che non vi porterà da un certo punto in avanti di certo non arriverete al livello 100 200 della treasure map con questo però questo dovrebbe essere un ottimo un buon team per bene o male sopravvivere e raggiungere comunque dei livelli non proprio bassissimi però bisogna fare di necessità virtù comunque abbiamo appunto attack boosting orb boosting abbiamo un buon punteggio senza appunto contare sulle nuove legend se ovviamente avete le nuove legend katakuri v3 blackbeard v2 ovviamente qui sono super 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 consigliate però di necessità bisogna farne virtù e questo è il team ma adesso passiamo alla mia opinione per quanto riguarda questa treasure map e sul perché non è tra le più rose qual è il problema di questa treasure map il problema di questa treasure map è la troppa bontà della bandai e uno dice ma perché da quando una troppa bontà è un problema non lo è un problema ma forse in questo caso un po' lo è perché questa treasure map come ho detto era quella dell'anniversario della versione giapponese quindi quello che stiamo vivendo adesso è praticamente un anniversario senza essere l'anniversario una sorta di buon non compleanno perché comunque è un bel periodo pieno di eventi e questa treasure map ne è comunque l'esempio il suo gofest eventi free to play e roba regalata non ha niente da invidiare a un anniversario anzi se lo paragoniamo al quinto anniversario della global il quinto anniversario ne esce totalmente disintegrato veramente manco la polvere rimane più e quindi giustamente hanno voluto mettere tanti point booster se ne è andata a vedere probabilmente non abbiamo mai avuto così tanti point booster in una treasure map il problema è nella distribuzione di questi point booster perché infatti se andate a vedere dall'1.5 in poi sono tutti personaggi re-requit abbiamo come 1.5 i re-requit del pvp di un sugofest che peraltro è già finito e che purtroppo non sono più recuperabili almeno fino al prossimo sugofest pvp abbiamo a kaino v3 come un e75 che comunque è una legend i due volte point boost sono le quattro nuove legend uscite infine abbiamo un ben 2.2 di punteggio con anniversari nami e anniversari chopper e questa treasure map secondo me va a far piovere sul bagnato cioè a favorire persone che magari di favori non ne hanno nemmeno bisogno io personalmente pensavo e speravo che appunto essendo comunque quella dell'anniversario comunque di dare una mano un po' più a tutti ovviamente sempre come in ogni treasure map se pulli e hai personaggi ovviamente vieni premiato perché puoi ambire a un determinato punteggio la bandai e treasure quiz è sempre stato ovviamente così ed è giusto che lo sia anche in questa treasure map ma non in modo così pesante perché a questo punto ci sono due possibilità se tu hai ovviamente sculato hai avuto culo o perché magari hai fatto un multi e ti sei trovato tutte le legend o ci hai speso milioni di trilioni di euro per avere quei personaggi ovviamente è vita facile ma attenzione perché comunque anche gli altri avranno questo punteggio quindi comunque si raggiungerai un rank di un certo livello ma comunque ci sono altri dietro di te che hanno il tuo stesso point booster si parla di un point boosting di circa mi sembra di aver visto 127 se usate tutti i grandi point booster di questa treasure map quindi capite che vi superano si fanno milionate di punti come se piovesse quindi è un attimo che anche se tu che hai tutti i team super fighi super power magari perdi 300 400 posizioni che ne so per chi invece è free to play per scelta per sfiga perché magari appunto non ha avuto culo nel sugo fest non ha voluto pullare non aveva le rainbow jam necessarie non voleva spenderci dei soldi invece sarà un gioco al massacro dove non solo non si riuscirà o molto difficilmente si riuscirà a raggiungere magari gli obiettivi che uno di solito si pone ma probabilmente a rimanere anche nella new world league che insomma questa treasure map per andarvi a citare e a modificare leggermente la vecchissima sigla dei cavalieri dello zodiaco sarà uno scontro fratricida il più sculato dovrà infine tra tutti i trionfar quindi se tu hai avuto la botta di culo di trovare tutte le legend comunque avrai il tuo bel perché da fare quindi sarà un farming comunque costante sarà richiesto un farming costante quindi non ti puoi adagiare troppo sugli allori se invece non hai avuto culo dovrai farmare altrettanto anche di più per semplicemente magari rimanere nella new world league ed evitare di andare nella grand line quindi insomma una distribuzione migliore dei point booster avrebbe dato una mano a tutti non avrebbe ovviamente tolto qualcosa alle whale perché ovviamente loro avrebbero sempre fatto la loro cosa però magari avrebbe dato una spinta in più anche ai miseri che non hanno avuto culo che magari appunto non hanno deciso semplicemente di spendere dei soldi in questo gioco quindi fatemi sapere la vostra opinione su questa treasure map se volete avere dei consigli come al solito fatemi sapere se volete darmi dei consigli ovviamente sono super aperto a qualsiasi suggerimento e modifiche fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa treasure map se è giusto che sia stato dato un punteggio così alto a tanti personaggi soprattutto re-requit perché secondo voi va ad alimentare il lato competitive oppure se secondo voi è stata una scelta totalmente sbagliata che va a favorire una piccola fetta della community a discapito invece della più grande detto questo noi ci vediamo al prossimo video ciao Grazie a tutti.